ehi ciao amici buongiorno vi starete chiedendo cosa ci faccio in un bagno beh ora ve lo spiego datemi solo un attimo che mi rinfresco oggi è il giorno in cui partiamo per il giappone e questa mattina arrivati in aeroporto giuseppe ci ha fatto una sorpresa ci ha detto dobbiamo fare delle sfide e se qualcuno vince avrà la possibilità di andare in business ve l'ho semplificata molto ma più o meno è quello che è successo beh ho il piacere di dirvi che oggi andremo a vedere la business di all'italia ovviamente andate a guardare il video di giuseppe perché potete capire meglio cosa è successo come è successo e soprattutto cosa è successo agli altri due in questo momento mi trovo all'interno della lounge all'italia che si chiama casa all'italia ed è questo posto bellissimo in cui puoi aspettare di prendere il volo con il tuo aereo ecco perché sono in bagno per capire se un posto è figo è bello di andare a guardare il bagno non è una cosa che mi sono inventato una cosa risaputa e questo bagno è una figata oltre al fatto che tutti sbirrucita tutto e guardate il muro cioè il muro riflette più del mio vetro a casa del mio specchio ci sono le asciugamani e c'è proprio traspira lusso che è una figata pazzesca probabilmente c'è tanto altro e se da questa coltrona girevole super mega grande in pelle comoda non avete capito il livello su cui stiamo viaggiando beh vi faccio fare un giro della lounge in generale una piccola curiosità sulle pareti ci sono questi quadri di pelle questa è la pelle frau è la stessa pelle che usano negli interni delle ferrari traspira benessere eccolo tokyo via gate eccoci business sky priori di ci siamo nel tunnel con la scorta incredibilmente ciao ci sono vicini anche taglia siamo sedi sull'aereo c'è tutto il menù c'è anche il giapponese tra l'altro però il giapponese non lo so leggere devi scegliere la carta di mangiare esatto tra l'altro la cosa fighissima è che puoi mangiare quando buona in realtà ci hanno portato l'aperitivo e giustamente ne possiamo approfittare per mangiare una tartina qui col gamberetto siccheria ma andiamo anche ad unboxare la coperta che ci sono dentro le ciabatte se sono senza scarpe allora devo adattarmi alla vita da aereo tutto ciò povero stefanino bene con amico a stefano ok ragazzi mi sono messo le ciabattine e quindi ora vi mostrerò un po il posto partiamo dalla visuale da seduto c'è davanti un monitor mi sembra più o meno 15 pollici quindi direi ottimo e qui c'è il sistema di intrattenimento quindi durante il volo puoi metterti a guardare film ci sono diverse cose da fare poi sotto abbiamo lo spazio per le gambe infatti ti levi le ciabattine e fai tac tac di qua abbiamo un tavolino dove c'è ancora il mio aperitivo bellissimo abbiamo delle riviste abbiamo questa che è una ovviamente luce che serve per leggere vedete molto flessibile si muove un tentacolo mio dio abbiamo i comandi del sistema di intrattenimento che è questo qui che dimostravo e poi abbiamo questi che sono i comandi della poltrona ora la poltrona è fatta dello stesso materiale della pelle che era attaccata al muro vedi poltrona frau che come dicevo è la pelle che usano all'interno delle ferrari quindi insomma traspira benessere poi abbiamo un cuscinetto per la schiena la cintura è imbottita cioè vabbè bottietta d'acqua e delle cuffie che sono con la riduzione del rumore per ascoltare al meglio vabbè i film e le cose qui c'è un separee per quanto riguarda la poltrona ci sono tutta una serie di funzioni beh la prima cosa è che c'è il mas ragazzi è una poltrona massaggiante ora proverò a farvi sentire il rumore si un'altra cosa che possiamo fare oltre ad avere attivato l'opzione massaggiante potete cliccare qui sulla zona relax chiede premuto e mi sto muovendo e magicamente ragazzi sono in una spa ci sono due opzioni tra l'altro posso anche mettere spot questo è bello ragazzi mi sa che lotterò acceso tutto il viaggio si può gonfiare una specie di cuscinetto lombare penso non conosco il termine tecnico scusate mi può andare indietro mi muovo mi muovo mi muovo mi muovo quando sali a bordo oltre a chiederti cosa vuoi mangiare ti portano questo bellissimo astucetto come si chiama è una trusso è una collaborazione con da bulgari abbiamo una spazzola pettine abbiamo questo che è il comfort kit attenzione una busta nera che sembra un mio dio che cosa ti stanno portando l'apriamo allora ci sono i calzettoni che metterò subito che sono quelli lunghi sono pure stilosi abbiamo i tappi per le orecchie ok ti siedevi dormire giustamente ti metti la mascherina c'è anche la mascherina l'italia quindi puoi fare così abbiamo il mulgari e perfumé è un parfum e parfum no vai c'è doppia e sarebbe e parfum non fa di profumo e sarebbe profumo no è una salvietta profumata come è che si fa così abbiamo il profumo emulsione per il viso è una crema idratante addirittura però idratante per le mani però ecco perché scusate io trovo una sola dice perché sull'aereo dentro le mani secche perché l'aria condizionata e quindi la cambio idratante kit dentale abbiamo uno spazzolino e abbiamo il dentifricio basta ok non te lo devi mangiare perfetto pochette fatta giuse ho cambiato outfit mi fa piacere ma non troppo aspettiamo il vino e facciamo brindisi stai mangiando te povero stefan ragazzi però le challenge sono challenge le sfide su sfide surri ha vinto e magari la prossima volta faremo un'altra sfida e surri perderà abbiamo questo buonissimo flan di verdure che ci medirà funghi porcini pomodorini siccate surri a me è arrivato già il primo zitti con salsiccia abbiamo preso lo stesso come prima la prova del gusto buono grazie assai prima un peglino per concludere per concludere sono già abbastanza pieno però che fai tu lo prendi lo lo rendi ho preso questo piatto di formaggi con allora c'è grana padana lo riconosco è tipo un formaggio caprino se non sbaglio una fontina è una specie di fontina con i crechi e marmellata marmellate noci è arrivato il dolce aspetta questo è il tartufo di pizzo calabro ah è vero perché il menù di oggi si chiamava calabrese era un menù a tema calabria e va bene raga e si finisce con un passito alla salute all'italia che ci ha ospitato questa possibilità ragazzi siamo pronti per entrare in modalità notte ora siamo in modalità normale cioè proprio dritto è come quando devi atterrare poi c'è la modalità relax aspetta andiamo insieme questa è la modalità relax puoi vedere il tipo ok quindi nel caso non riuscissi a dormire entro in modalità relax altrimenti c'è la modalità letto vai la cosa bella che quando andiamo all'italia letto puoi anche letti vari massaggi Surdi ma sei serio? domanotte raga alla business cioè è una crep ripina di omolette con piselli quanto per essere leggeri abbiamo fatto un'azione e poi ci vediamo in basso E' giusto sia, giustamente uno va nel bagno dell'aereo per mettersi le cremine E di solito non lo faccio, però c'è una data che fai, non le usi Signore e signori, tra poco atterriamo Ok ragazzi, ecco questa possiamo posarla Ma a me non è ancora arrivato? Non lo so, cioè era arrivato Però io mi sono girato, non ce l'ha Che vuol dire non ce l'ha più? Non lo so Mi hanno rubato lo snack A me era arrivata la pizzetta e l'ho mangiata E a te era arrivato tutto E non lo so, mi hanno rubato il cibo Ragazzi, ormai stiamo per atterrare, quindi ci vediamo direttamente a terra Siamo atterrati ragazzi Grazie mille comunque Arrivederci, grazie Arrivederci, grazie Eccoci ragazzi, siamo atterrati, siamo arrivati a Tokyo Il tempo purtroppo non è dei migliori, anzi fa anche abbastanza freddino Mi sono messo la felpa dei mates, ho la giacchetta E se non sono in casa al calduccio a disfare la valigia E' perché questo alla fine era un travel vlog, no? C'è la business class di qua, di là C'è l'aereo, c'è il viaggio Ma non può essere un vlog di lifestyle Un vlog di viaggio se alla fine non proviamo qualcosa di giapponese insieme Infatti sto andando a un combini per comprare qualcosa da provare Così no, per fare il throwback in Giappone Ho il mio bottino, ora mi dirigo a casa Così posso provarle insieme a voi E vi dico anche di tenere gli occhi aperti perché prossimamente ci saranno tanti altri video di tutti gli altri mates E nel video di, non mi ricordo, su Stefano o Sascha si vedrà anche il tour della casa In cui siamo in questa nostra permanenza in Giappone Quindi ecco, tenete gli occhi aperti Ecco questo Ecco qua Eccoci ragazzi, siamo tornati a casa e andiamo a provare insieme queste cose Allora, partiamo dal tè al limone che giustamente è tè al limone In realtà è molto buono Noi abbiamo fatto l'assaggio, abbiamo mangiato anche l'anno scorso Era un po' il drink della vacanza Ed è molto molto buono Poi abbiamo il Gana, il Lotte Gana Milk Chocolate Che è la pronuncia che hanno loro qua dell'inglese Mmm, figa un cioccolatino Ora mi sembra che siamo di plastica Ma no Gana E' come se no, ti guarda Buono Buono Poi ho preso questo Non so cos'è Cioè, non ho più minima idea Zero totale Sembra tipo un biscottone con dentro caramello e crema Vedete un po' La pinta a stella le proprie video a pigiare Ah ragazzi, non ve lo credo Ma qui in Giappone C'è la pinta a stella Che non è figa Perché altrimenti so già Ah, oddio È caramello E crema al latte Buono Ultimo Ma non meno importante Signore e signori Il panino con gli spaghetti Quindi Cioè, sono spaghetti con la soia Cipolle Verdure varie Dentro un panino E lo so che non sembra molto invitante Ma in realtà è buono Molto buono E' anche un po' dolce Perché è stato seco il ketchup? Il ketchup è tipo aceto qua dentro Detto questo, vi auguro per questo video è tutto Vi ricordo ancora una volta Prossimamente usciranno altri video Sui canali degli altri mails Con diverse altre cose Vi ringrazio ancora l'Italia Per l'esperienza che ci ha procurato E niente Noi ci vediamo in un prossimo video Scusatevi, è buono Ciao Trudududu Ciao 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 Ciao